a tutti da Alessandro Mariani e benvenuti in questo nuovo video oggi procederemo con l'unboxing di wiko walks essenzialmente esatto di uno smartphone di fascia alta presentato dall'omonima casa francese ad un prezzo di 199 euro si tratta del primo smartphone con processore invidia tegra forai e a differenza degli altri smartphone vediamo subito che la confezione è in cartone e non più in plastica andiamo ad analizzarmi il contenuto vediamo che si apre a modico fanetto in prima battuta troviamo il nostro smartphone eccolo qua vi facciamo vedere meglio in questo caso ne abbiamo uno di colore bianco dopodiché troverete sul nostro sito la galleria fotografica e quindi potrete analizzare meglio voi i dettagli andando di muovere l'involucro della confezione del telefono troviamo il cavo dati piatto anti ingarbugliamento micro usb per caricare per connettere al nostro computer il nostro telefono poi troviamo il manuale di rapido utilizzo il caricatore con porta usb da muro e infine nell'ultima scatoletta troviamo gli auricolari classici di wiko anch'essi piatti e infine abbiamo una serie di adattatori per la sim e dei gommini per adattarsi ai diversi padiglioni auricolari direi che per questo video è tutto vi ricordo di seguirci sui futuri focus realizzati per questo splendido smartphone e nei canali social sotto elencati un saluto da alessandro oriani da formobiles.info un saluto da alessandro ori un saluto da alessandro ori